Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sul traffico. Terminate le ferie estive, le città si sono popolate e riprendono le attività lavorative. Quindi abbiamo traffico intenso in direzione dei centri urbani, i code tra lo svincolo di Sesso San Giovanni e Via Licertosa, ma anche sul tratto capitolino dell'A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est. Le previsioni del tempo indicano pioggia al nord-ovest e temporali su Sicilia e Calabria. Peraltro anche la protezione civile ha diramato uno stato di allerta proprio per queste regioni. e sulla strada statale 113 settentrionale Sicula abbiamo un allagamento allo svincolo di Capaci. Ma la notizia di maggior rilievo questa mattina è di un semirimorchio che ha preso fuoco carico di stoffa che al momento sta generando code sulla 1, la Roma-Napoli tra Anagni e Ferentino. Abbiamo 3 km di code e proprio monitoriamo in tempo reale l'immagine che ci giunge in diretta da Colleferro. Come vedete c'è traffico intenso e tra l'altro queste code si prevedono in aumento. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e il personale di autostrada e si viaggia su una sola corsia. Poi ci viene segnalato sull'A14 un incidente all'interno della galleria tra Roseto degli Abruzzi e Atripineto in direzione Pescara. Queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione e da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza, fate buon viaggio. Avevamo tutti una bellissima giornata in linea al TG1. Arrivederci. Grazie. Grazie.